Dal sistema hegeliano dell'eticità custodito nelle pagine immortali dei lineamenti di filosofia del diritto, apprendiamo oltretutto due aspetti fondamentali che mi paiono degni di essere evocati per una retta comprensione e un appropriato inquadramento del nostro tempo, l'epoca che potremmo ancora con Hegel definire l'epoca del sistema dei bisogni deeticizzato e assoluto. La cosiddetta globalizzazione col suo open space senza frontiere corrisponde de facto all'attuazione di quello che Hegel nei lineamenti di filosofia del diritto chiamava il sistema dei bisogni come momento più basso della società, come momento del competitivismo individuale dove ognuno diventa baricentro per se stesso e si perde ogni eticità, dove trionfa cioè quello che Hegel chiama l'ateismo nel mondo etico. Ebbene, l'odierno scenario retto dalla new economy e dei processi di sradicamento globale di un capitalismo in cui si compie effettivamente egelianamente il regno animale dello spirito, porta a compimento questi processi. E perché si possa affermare su scala planetaria il sistema dei bisogni deeticizzato con annesso al ritorno della nuova plebe, giacché Hegel mostra bene come la figura sociale dominante nel sistema dei bisogni non politicizzato, non eticizzato e abbandonato solo al sistema anomico dello scambio autoreferenziale, sia esattamente il ritorno della plebe, cioè di una soggettività multitudinaria che è esclusa dai processi della modernità, che è ridotta ai margini costretta a sopravvivere in condizioni vie più deteriori. Ecco, in questo scenario che oggi si sta concretando nell'open space della mondializzazione infelice di un capitalismo post-1989 che ha perso ogni forza frenante in grado di contrastarne l'avanzata sempre più aggressiva, possiamo con giusta ragione sostenere che si stanno scardinando i due fondamenti etici della vita pubblica. Hegel non ha dubbi nel sistema di filosofia del diritto nei lineamenti del 1821, nell'individuare nella famiglia la cellula genetica della comunità etica, quella che Hegel chiama la totalità più perfetta di cui la natura sia capace, quella totalità immediata basata sul sentimento e scaturente dall'unione di due individui di sesso diverso che trovano la loro unità nel figlio come sintesi di una totalità organica in cui le individualità non si perdono, giacché i due coniugi continuano a esistere nella loro individualità irriducibile, e non di meno l'unità è raggiunta mediante il figlio come sintesi del loro amore eticizzato nella forma del matrimonio. Ecco la famiglia è il primo fondamento della comunità e del mondo della vita etica. Lo Stato poi dal canto suo nel sistema hegeliano figura come potenza eticizzante, come realizzazione dell'idea del bene vivente e quindi come compimento intero della vita etica. Lo Stato è il dio mortale, dice Hegel richiamandosi Haobst, è la figura nella quale si compie il sistema dell'eticità. Se la famiglia costituisce il nucleo genetico del mondo etico, lo Stato dal canto suo ne porta a compimento i presupposti. Lo Stato recupera la comunità della famiglia, portandola tuttavia a un superiore livello, giacché è un livello basato sulla mediazione, sulla riconquista dell'etico, dice Hegel, dopo la perdita che dell'etico stesso si è fatta nel sistema dei bisogni come concorrenzialismo privatistico di individui autoreferenziali e socievolmente insocievoli. Un sistema cioè dove ognuno, avendo smarrito ogni eticità, pensa solo a sé, secondo i dettami di quella monadologia liberale che trova nel sistema di Adamo Smith il proprio immortale compimento, la propria raffigurazione più efficace, il sistema in cui ci si rivolge al birraio, al fornaio non per bontà ma semplicemente per interesse privato ed essi a noi si rivolgono a loro volta per il medesimo obiettivo. Ecco, la famiglia come fondamento della vita etica comunitaria e lo Stato come suo compimento sono esattamente oggi le due figure che il sistema dei bisogni globalizzato, chiamato anche tecnocapitalismo, con tradizione concretissima che non ha smesso di agitarsi nel mondo unificato sotto il segno della forma merce, ebbene queste due realtà sono ciò che oggi il capitalismo globale sta disgregando. Per un verso la famiglia come fondamento della vita etica e il capitale non può oggi accettare la famiglia, giacché vuole vedere ovunque, nello spazio liscio del mercato o sistema dei bisogni globale, sempre solo individui concorrenziali, laddove invece la famiglia come comunità dell'origine fa valere, potremmo dire, valori e affetti che non sono mercificabili. Il rapporto che vincola una madre a un figlio non potrà mai essere ridotto all'algida geometria dello scambio e del competitivismo. Il capitale deve neutralizzare ogni stanza solidaristica, deve neutralizzare e annichilire ogni comunità, di modo che sempre e ovunque vi siano solo individui che scambiano e si relazionano secondo la micidiale logica del dout des. E poi lo Stato, lo Stato come compimento della vita etica, come fortilizio che garantisce il ridefinirsi della società non come sistema dei bisogni concorrenziali antagonistici, bensì come famiglia universale, dice Hegel, algemeine famiglie. È recuperato, cioè il momento comunitario genetico della famiglia, portato a un livello più alto perché saputo, conquistato, mediato, raggiunto mediante lo sforzo e mediante il concetto. Per questo nello Stato gli individui non valgono come competitors, come individui concorrenziali, come monadi di consumo e di libero scambio, bensì valgono come membri di una famiglia universale, membri di una famiglia universale o anche cittadini. Il cittadino, proprio come il figlio nella famiglia, è, potremmo dire, il figlio dello Stato, colui che beneficia di alcuni diritti fondamentali, dovendo per ciò stesso rispettare anche i doveri fondamentali, a prescindere dalla sua posizione sociale, ma proprio in quanto figlio di quella famiglia universale che è lo Stato. Ebbene, non stupisce in quest'ottica che il capitalismo della new economy globale stia neutralizzando di conserva è la famiglia, è lo Stato, è la figura del figlio, è la figura del cittadino, ridisponendo la nuova figura dell'open space globalizzato del sistema dei bisogni, ove l'unica soggettività riconosciuta è quella del consumatore sradicato che ha tanta libertà e tanti diritti quanti può in concreto acquistarne. Ossia la sua libertà, quella del consumatore che non è più figlio e non è più cittadino, è coestensiva rispetto al valore di scambio di cui egli è portatore. Ecco perché il capitalismo nella sua marcia trionfale post-1989, dopo aver dissolto i comunismi pur imperfetti e comunque tali da aver garantito un freno, un catecon, direbbe la teologia politica, rispetto all'avanzata del capitalismo globale, può esso capitalismo dopo il 1989 aggredire frontalmente, è gli stati sovrani nazionali come compimenti della vita etica e come luoghi del primato della politica sull'economia, nello spazio dello stato comunitario etico l'individuo vale come cittadino, membro di una comunità solidale, nella quale gli spettano diritti fondamentali, quale che sia il suo posizionamento sociale, e poi il capitalismo arrembante può distruggere e dissolvere la famiglia come nucleo etico originario, di modo che la società tutta, per menzionare Margaret Thatcher, venga dissolta ed esistano solo individui competitivi, relazionati secondo la logica dell'insocievole socievolezza che fa sì che gli individui si aggreghino socialmente, non perché mossi da un'etica solidale, ma semplicemente perché in cerca della massimizzazione del proprio valore individuale. Questa è la cifra del nostro tempo come compimento del sistema dei bisogni globale con annessa neutralizzazione dell'etica familiare come comunità dell'origine e della potenza eticizzante dello Stato come compimento della vita etica. La globalizzazione è, eghelianamente, il trionfo degli animal spirits del mercato o sistema dei bisogni deeticizzato, ridotto a puro campo aperto, liscio, globale, senza frontiere e confini, per il competitivismo assoluto di atomi concorrenziali ridisegnati secondo le logiche anticomunitarie della monadologia liberale oggi triunfante.